Quello che è accaduto a Parigi ci addolora profondamente, quel paese ancora una volta viene colpito da atti terroristici e ci preoccupa perché il pericolo è attuale, esiste, noi ne siamo consapevoli. Le strutture di sicurezza del nostro paese operano al massimo livello di allerta e vogliamo tanto augurarci che non si verifichino eventi terroristici nel nostro paese. Nella consapevolezza però che non si può affermare la certezza che ciò possa non accadere mai perché il pericolo maggiore non viene dalle organizzazioni rispetto alle quali le nostre attività investigative, le iniziative e l'attività dell'intelligence è molto molto capace e pervasiva. Il problema riguarda i cosiddetti lupi solitari, le persone cioè che agiscono individualmente e che producono tante tragedie che ripeto ci addolorano per quello che è accaduto a Parigi e ci auguriamo non si verifichino mai da noi.